Anticipo dell'undicesima giornata a orario di pranzo per il girone D della Lega Nazionale di Lettanti. Allo stadio delle Terme di Abano si affrontano i nero-verdi di De Mozzi, ottavi e reduci dalla pesante sconfitta di Imola, e i giallorossi di Zattarin, che in caso di successo potrebbero temporaneamente superare il Piacenza in metta alla classifica. Ad Abano pioggia battente e campo non in perfette condizioni. L'arbitro è la signora Valentina Garofalo di Vibo Valencia. I primi minuti sono tutti di marca apponense. Al settimo il cross di Bortolotto diventa quasi un tiro. Un minuto più tardi l'Orello deve uscire con i piedi per salvare su Giusti. Ancora Abano al decimo. La punizione di Beccaro è resa insidiosa dal terreno umido, e l'Orello deve distendersi per mettere la palla in angolo. Dal corner successivo, Zompa di testa anticipa tutti, ma mette alto di testa. Al sedicesimo intervento Dubbi di Scottone, che cintura Giusti in aria, ma la signora Garofalo lascia correre. Al quarantunesimo prima occasione per l'este. Giusti difende la palla, ma la perde in aria. Rondon gliela strappa, ma non c'entra lo specchio di destro da pochi passi. Al quarantacinquesimo schema su punizione per l'este, con Rondon che cerca Lely. Il capitano giallorosso si coordina col destro, ma Rossi è attento e rispinge sul primo palo. Nella ripresa tornano in campo gli stessi ventidue della prima frazione. Ciò che cambia è il leitmotiv della gara, perché l'este è rendersi ora più pericolosa del Labano, come al cinquantunesimo, quando Coraini salta tra i uomini, ma poi perde il tempo e non riesce a concludere. Pochi secondi più tardi, intervento Dubbi in aria di Zompa su Meneghello dopo un colpo di testa di Lely. Da rivedere. Al cinquantottesimo Rubo mette in mezzo. Rossi esce di pugno, ma spara addosso a Maniero. La palla resta lì e viene messa in angolo da Maestrello. Nei successivi venti minuti, la partita entra in una fase dominata dalla paura di perdere delle due squadre. È Rondon all'ottantunesimo suonare la carica, con un tiro di collo dai venti metri. La palla sfiora al sette e grazie a Rossi. Ancora Rondon, il migliore dei suoi, all'ottantaquattresimo cerca Bernadelle con un lancio in profondità. L'attaccante giallorosso spizza la palla di testa, trovando Rubo, che con un'acrobatica girata di destro bucca Rossi, portando in vantaggi suoi. Pochi minuti più tardi, l'est avrebbe anche l'opportunità per raddoppiare, con un veloce contropiede. Beghetto porta palla e poi scarica il diagonale, che viene respinto da Rossi. Nei due minuti di recupero concessi dalla signora Garofolo, c'è un'opportunità per Labano. A novantunesimo, la punizione di Zatarina trova la testa di De Cesare, ma il centrocapista incorna in maniera debole e spreca una grande occasione. Il derby padovano finisce così con la vittoria di misura dell'Est, che vola al comando della classifica del girone Divi e sarà sconfitta di oggi del Piacenza in casa con Rimini. Abano invece decimo a quota 14 punti.